Rapina sventata questa mattina in centro a Salerno, in via Eugenio Caterina. In azione due malviventi armati di pistola a bordo di uno scooter, che hanno tentato di portare via il borsello con l'incasso ad un dipendente del supermercato E.T., proprio mentre si stava allontanando dal market, forse per depositare la somma di denaro in banca. Il lavoratore avrebbe reagito ferendosi durante la colluttazione. Salutazione, colpito al capo con il calcio della pistola, l'uomo ha perso molto sangue ed è stato soccorso dai sanitari della misericordia e portato in ospedale. È riuscito però a mettere in fuga i due malviventi, che hanno perso o deciso volutamente di abbandonare la pistola, rimasta a terra in strada. Momenti di tensione nel quartiere, sono intervenuti sul posto carabinieri e polizia per i rilievi e per mettere in sicurezza l'area. La strada è stata chiusa al traffico. Intanto ieri sera banditi in azione anche sull'area di servizio di Baronissi in direzione sud lungo la 2 del Mediterraneo. Tre persone armate di pistola con caschi protettivi a bordo di un T-Max Yamaha hanno portato via circa 2.000 euro dal distributore di carburante, minacciando un cliente che è fuggito via, dando poi l'allarme. Sul caso indaga la polizia stradale di Eboli.